Domanda intanto subito a bruciapelo, tu sei pro o contro l'editing della fotografia? Eh, quella per esempio è... Salve gente, benvenuti in questo nuovo video. Pochi di voi sanno che molte delle cose che conosco sulla fotografia in realtà le ho imparate guardando le sue video lezioni su YouTube. Signore e signori, Carlo Orlandi. Ciao Carlo, benvenuto. Ciao a tutti, ciao Giuseppe, grazie per avermi invitato. Senti, sempre piccolo cappelletto per quelli che non ti conoscono, chi sei e che cosa fai brevemente. Io sono Carlo Orlandi e sono di mestiere un VFX compositor per il cinema ma anche un fotografo famoso su internet soprattutto per il corso di fotografia di Player 2 Lighting che è un corso online e gratuito che parte dalle basi e lo sto ancora continuando a fare da dieci anni parte dalle basi e arriva anche fino alla fotografia con i flash, la fotografia con i filtri insomma un po' tutti gli argomenti più avanzati oltre che fare anche recensioni tecniche di attrezzature che possono interessare sia a chi fa video sia a chi fa fotografie. Tu lo sai già perché chiaramente te l'ho detto off camera ma ne approfitto per ricordartelo e anche così lo spiego a chi ci sta ascoltando mi verrebbe di dire da casa ma in realtà siamo su YouTube e non in una trasmissione televisiva il format è molto semplice parto da una mia esperienza di vita vissuta in cui ho sbattuto veramente la testa o magari da una convinzione che ho formato nel tempo e che magari è semplicemente sbagliata e attingo dall'ospite quindi in questo caso da te per migliorarmi o cercare di sfatare quel mito quella convinzione che posso avere e che mi limita magari in quello che faccio e cercare di fare meglio la volta successiva io non sono un fotografo, premetto quindi le fotografie che faccio sono semplicemente propedeutiche per le copertine dei miei video piuttosto che qualche altra cosina su Instagram è tutto qui ma ho questo problema quando scatto con la macchina fotografica e guardo la fotografia non riesco mai a farmela piacere se non prendendola, portandola su Photoshop, su Lightroom modificandola tantissimo fin quando quasi è... diventa un'altra cosa e quindi domanda intanto subito a bruciapelo tu sei pro o contro l'editing della fotografia? sono pro però personalmente entro un certo limite ma non è un discorso che io applico a forza a tutti quanti penso che sia un discorso molto personale sul proprio stile però condivido il tuo stesso problema tendenzialmente da quando ho cominciato a fotografare circa dieci anni fa, dodici anni fa nel momento in cui ho cominciato a utilizzare i file RAW anche io non riesco più a guardare un file JPEG dalla macchina fotografica a essere soddisfatto perché so e sono abituato a quanto effettivamente di più si può tirare fuori a livello anche creativo ed espressivo dalla gestione del negativo digitale ma quindi tu pensi che una fotografia fortemente editata sia ancora una fotografia o diventa un'altra cosa a quel punto? questo comincia ad essere un po' un discorso più difficile personalmente penso che quando si comincia a esagerare o quando almeno si applica tanta post-produzione o tanto fotoritocco comincia a diventare più che altro secondo me un'opera pittorica digitale e che non vuol dire che è meno bella e meno valida di una fotografia scattata senza post-produzione semplicemente secondo me comincia a divergere il prodotto finale a livello artistico il discorso principale che faccio su tutta la questione di solito è che la post-produzione deve il post-produzione ritocco quello che sia deve partire da buone basi in questa maniera tutta la post-produzione che facciamo è effettivamente un modo per esprimere il nostro stile invece se noi siamo abituati o se magari ci sono persone che sono abituati a scattare a casaccio e poi lavorare due giorni in post-produzione secondo me è uno spreco di tempo che può danneggiare effettivamente il risultato finale mentre magari quella stessa persona se passava un po' più di tempo a studiare lo scatto in quel caso poteva passare il ritocco tecnico per rendere decente la fotografia richiedeva meno tempo dopodiché poteva inconcentrarsi sul restante giorno che gli rimaneva a fare il ritocco invece quello più creativo per esempio una cosa che mi scontro sempre e di solito predico bene ma poi era solo male è per esempio anche sulla fotografia di prodotti perché chiaramente quando si pensa al fotoritocco si pensa spesso alla ritrattistica però in realtà il fotoritocco pesante può essere fatto anche con paesaggi oggetti e via dicendo e per esempio nella fotografia dei prodotti una cosa che capita spesso a me e me ne ricordo sempre troppo tardi è il fatto che per esempio se stiamo fotografando un oggetto scuro ci basta passare con uno straccetto o con una pompetta d'aria una, due, tre volte e togliamo la polvere oddio si sta dicendo una cosa cioè io odio chiaramente i granellini di polvere che si creano anche perché certo scattando con lenti anche molto nitide poi quando li vedo su Lightroom cioè sono pieni di polvere neanche se avessi una cosa sporca riguarda le critiche alla gente che anche su internet è facile trovare la gente che è molto severa su degli argomenti anche sotto quel punto di vista una, un'idea che io mantengo è quella di dare peso alle critiche e ai consigli delle persone in base a quanto a te piace lo stile artistico di quella persona perché se c'è una persona magari bravissima però che fa fotografie che a me non piacciono io non voglio fare fotografie come quella persona come quelle, certo nel momento in cui quella persona mi dice a livello di composizione fai così oppure la foto secondo me è sbagliata le prendo in considerazione però so che non sono quel tipo di foto che io voglio fare però mentre magari c'è un artista che mi piace come fa foto o qualsiasi altro tipo di prodotto quella persona a quel punto se io voglio raggiungere quel tipo di look se quella persona mi dà un consiglio quello è un consiglio invece che devo seguire perché effettivamente è qualcosa che mi preme a me raggiungere quindi su tutta la questione della post-produzione tendenzialmente secondo me bisogna essere un po' elastici poi chiaramente poi si può formare una propria opinione sulla quale è facile discutere anche per divertimento e per contrastare un po' le opinioni guarda mi hai fatto un assist incredibile per la domanda scomoda che normalmente mi riservo per ultimo ma invece te la faccio subito a questo punto è scomoda attenzione cosa ne pensi di chi vende l'app preset su internet? quella per esempio tra l'altro ci pensavo proprio ultimamente mi era capitato di pensarci non mi ricordo quale youtuber stavo seguendo che parlava appunto dei pacchetti di latte è una tecnica di marketing molto furba nel senso sono furbi a riuscire a vendere questo genere di cose però è un po' una fregatura secondo me perché nel senso chiaramente può dare spunto per vari look in un tipo di montaggio per esempio se stiamo facendo di video se abbiamo un pacchetto di look possiamo effettivamente scorrerle capire un po' diversi toni che possiamo dare alle fotografie però poi a livello più professionale a livello di prodotto finale è un po' una tecnica che non è facilmente applicabile perché ma come hai detto tu peraltro è veramente più una questione una tecnica di marketing anche perché è chiaro che queste persone o meglio è chiaro che i clienti tipo delle latte dei preset sono persone che magari non sono ferratissime nella color come me oppure non hanno tempo né voglia magari di mettersi lì ma il rischio d'altro canto è che tu ti ritrovi tutte le fotografie magari sui social tutte uguali perché se c'è e ti faccio un esempio Pinco Pallo che è famosissimo su Instagram e vende le sue latte i suoi preset su Lightroom e tutti comprono le foto di Pinco Pallino ci sarà un Instagram pieno di foto alla Pinco Pallino che non sono scattate da Pinco Pallino certo e tra l'altro ed è bruttissimo perché si perde la forma espressiva no e tra l'altro sono poco didattiche perché in questo modo ci si convince che per ottenere un certo look un certo stile basta applicare un po' come i filtri di Instagram basta applicare quello e hai fatto cosa che a un primo sguardo può convincere però poi effettivamente un occhio più attento un occhio più esperto può vedere oltre il semplice filtro quando magari una persona non sta sviluppando effettivamente la capacità espressiva che potrebbe perché non va a curare poi i dettagli effettivi perché poi magari lo youtuber che vende le latte però magari è una persona che sono 20 anni che sta scattando fotografie anche per clienti e quello riesce per ogni situazione a valutare sia gli aspetti tecnici al momento dello scatto sia quelli in post-produzione invece questi pacchetti alla fine ti vogliono illudere che per fare raggiungere scopi insomma prodotti di un certo livello basta fare questo click è già fatto e tra l'altro secondo me svaluta anche un po' come dici tu rende un po' troppo omologato tutto quanto lo scenario e un po' questa politica di vendere e svendere questo tipo di procedure un po' secondo me danneggia la motivazione di alcune persone a andare effettivamente a vedere cosa gli piace a mettere le mani in pasta che poi è proprio quella la parte dell'essere un creator cioè se tu al creator togli il processo l'intero processo dallo scatto anzi ancora prima dello scatto dal pensiero da un'idea che tu hai in testa e magari non hai la più pallida idea come nel 90% dei casi capita a me che non sono un professionista sul come realizzare una determinata cosa e allora stai lì ti cervelli ma è proprio quello il gusto dal mio punto di vista che poi chiaramente quello è il gusto e quello è il modo con cui effettivamente poi impariamo perché è una banalità però sbagliando in qualsiasi campo effettivamente si impara perché nel momento in cui sbagli effettivamente è quel momento che riesci a ricordarti che ti mette in segnalibro nel cervello e ti dice ecco questo è come si sbaglia allora correggere in questa maniera è molto importante tutto il procedimento saltare in questa maniera può aiutarti nell'immediato però nel tempo secondo me è sempre una cosa che può un po' danneggiare ci tengo a ricordare questa cosa anche perché tu sei una persona modesta e non lo diresti mai ma lo faccio io anche perché va bene ne parlavamo off camera tu sei una persona che lavora in questo settore ma ci lavora veramente cioè mi hai fatto vedere il tuo showreel che magari ve lo lascio linkato qui da qualche parte così ve lo andate a recuperare cioè tu hai lavorato a film come London Has Fallen Expendable 3 cioè tu fai film al cinema vogliamo ricordare questa cosa qui e questa è un'esperienza che è molto divertente effettivamente chi si occupa secondo me di editing magari ha cominciato a vedere un po' di tutorial su After Effects o cose del genere è una cosa che dico sempre prendete in considerazione che esiste questo mestiere che è bellissimo che effettivamente io faccio da più di 12 anni è un bel mestiere dove incontri tante persone creative di tanti ambiti diversi e ti dà continua ispirazione io anche nelle cose che lavoro e con le persone con le quali lavoro di solito riesco sempre ad avere nuove idee anche per nuove cose che voglio fare io con me a livello creativo per i progetti personali esiste questo campo ed esiste anche in Italia questa è la cosa importante ci sono modi per iniziare anche qui in Italia ricordiamolo perché a volte non ci si pensa però anche film ma anche serie tv per esempio quelle sulla Rai tanti di queste serie tv hanno tanti effetti perché gli effetti fatti in computer grafica fanno risparmiare soldi quindi magari laddove c'è una scena con un porto medievale con tutte navi nonostante che è un telefilm della Rai però c'è effettivamente una società di effetti visivi dietro che ha ricostruito in 3D quella scena ha tolto il green screen e così ha esteso il set quindi è un campo secondo me che ancora non è così conosciuto in Italia però c'è molto futuro anche secondo me anche per le nuove generazioni è un campo secondo me divertentissimo parlavamo prima off camera di queste nuove tecniche di questi pannelli enormi ci hanno girato The Mandalorian in cui non si utilizza più il green screen ma invece questi pannelli grandissimi che circondano letteralmente il set e quindi l'attore si trova letteralmente all'interno ma questa cosa qui nel tuo campo in cui sicuramente lavori tanto con il green screen è sempre un'opportunità chiaramente non è qualcosa che ti va a togliere delle opportunità lavorative anzi le implementa beh tendenzialmente nell'andare avanti con gli anni credo che questo qui sia un mestiere che non scomparirà facilmente proprio perché come dici tu sempre più prodotti si appoggiano agli effetti visivi nel particolare questa tecnologia del Mandaloriano che usa questi schermi giganti che hanno tutta poi un'interazione anche a livello di luce sugli attori sulla scena la tecnologia è veramente entusiasmante nel particolare potrebbe da una parte andare a danneggiare diciamo l'aspetto ecco quello dei green screen dei blue screen che però è sinceramente una perdita che nessun compositor nel mio settore piangerà perché i green screen comunque nonostante che si pensi che siano una cosa molto automatica in realtà l'integrazione fotorealistica di un green screen è tantissimo lavoro manuale perché se abbiamo un attore con i capelli un po' setosi un po' scotonati anzi andare a ripescare e andare a ripescare tutti i dettagli piccoli di solito è un lavoro estenuante quindi se scomparono i green screen del tutto ne saremo solo contenti però poi la realtà è che un progetto come il Mandaloriano per esempio richiede tantissima preproduzione quindi bisogna sapere già perfettamente tutte le scene come saranno perché la costruzione della scena su cui poi si muovono gli attori deve essere già pronta prima che si registrano i filmati mentre tu dici non andando a inserire tanti elementi bucando il green screen ma essendo già tutto lì devi essere sicuro che è tutto perfettamente come dovrà apparire poi nel prodotto finito cioè deve essere tutto pronto la parte questa degli effetti deve essere praticamente tutta pronta prima del film del giorno di produzione poi quando registri tu mandi in play mentre la comodità dei green screen come vengono utilizzati adesso anche su progetti più piccoli è che a volte capita e per esempio nel mio campo nei film che ho lavorato è capitato ogni tanto che una scena tu la lavori in una certa maniera con un certo sfondo poi all'ultimo momento in montaggio il regista decidi di scambiare due scene e quindi quello che tu avevi messo dietro lo devi cambiare totalmente quindi magari se ti stavi in una giornata di sole subito dopo deve essere di notte al mare per dire e quindi caspita certo è vero questa cosa però non ci pensavo certo il green screen comunque ti permette di metterci tutto quello che vuoi e il contrario di quello che avevi pensato in quel modo ecco in quel modo come farlo? in quel modo non fanno nel senso nel caso del Mandaloriano se cambiano idea devono rigirare la scena è quello invece la potenza di un green screen è il fatto che entro un certo margine puoi cambiare idea per esempio quello che succede spessissimo sono gli inseguimenti tra le macchine quando ci sono gli attori che guidano il primo piano dell'attore che guida dentro la macchina là di solito è normalissimo che quello che si vede dietro cambia molto spesso perché se tu prendi una scena di un inseguimento di macchine e c'è per esempio una svolta a destra basta che una delle scene la metti al posto dell'altra e a quel punto quello che si vede dietro deve essere nell'ordine giusto quindi ci deve essere prima della svolta durante la svolta e dopo la svolta e quindi anche in questo caso è molto più dinamico lavorare col green screen mentre con una scena normale come gireresti normalmente un camera car nella realtà non puoi tanto stare a ribaltare il montaggio perché quella è la sequenza effettivamente delle cose che passano nello sfondo guarda stiamo parlando di una cosa in cui io e te probabilmente potremmo ancora stare delle giornate intere a parlarne perché per me è una cosa super affascinante soprattutto da chi come me i film li fruisce soltanto ed è un po' interessato a quello che succede dietro ma poterne parlare in italiano poi con qualcuno che lo fa di mestiere è veramente bellissimo volevo un attimino ricondurmi al discorso iniziale che facevamo sulla fotografia e sulla post produzione pesante della fotografia nel mio caso tu pensi che ci possa essere un modo una soluzione per cercare quantomeno di avvicinarmi di più già in fase di scatto a quella che è la mia idea di quella che sarà la copertina del mio prossimo video piuttosto che beh non è obbligatorio soprattutto in ambienti se sei in un ambiente controllato come per esempio il tuo studio che conosci bene la post produzione in realtà non è così obbligatoria anche per velocizzare un po' tutto quanto il procedimento chiaramente perché se tu devi andare a vedere cosa fai effettivamente in post produzione quindi devi fare una fotografia la scatti come la scatti adesso vai su Lightroom o su Photoshop e vedi effettivamente la lavori tranquillamente e a quel punto confronti questa foto con quella iniziale e devi cercare di semplificare al massimo le operazioni perché chiaramente soprattutto su Photoshop è facile farsi prendere la mano creare tanti livelli tanti aggiustamenti e così a me piace metterci il fumo quello se ci devi mettere il fumo l'unica soluzione è farlo sul set è Photoshop però no ho la macchina del fumo e beh allora quella col fumo la fai subito un pochino davanti però chiaramente cose come il fumo per esempio sono più controllabili in post produzione perché puoi regolarne l'intensità e tutto però a livello invece di look generale secondo me se sei in un ambiente abbastanza controllato e ti fai sulla macchina fotografica un preset andando a vedere perché alla fine i valori che puoi modificare in una fotografia non sono poi così tanti cioè il contrasto che influenza anche la luminosità il bilanciamento del bianco la saturazione e poi puoi avere anche uno shift uno spostamento dei toni sulle ombre sulle alte luci o sui mezzi toni e che sono cose che tendenzialmente attualmente le macchine fotografiche riescono a fare quindi se tu riesci a trovare un look che ti piace e che vuoi mantenere diciamo costantemente nelle tue fotografie in realtà potresti perdendo un po' di tempo all'inizio impostarlo sulla macchina fotografica in una delle modalità custom e a quel punto tu scatti e ce l'hai già pronto oppure la soluzione è un'altra soluzione che può essere ugualmente pratica se l'operazione è un po' più complicata è crearti delle LUT personali questa volta che sono le tue e sono la tua quelle mie esatto non quelle di qualche e là in quel caso quello per esempio è un ottimo utilizzo delle LUT perché se tu riesci a mantenere uguale l'aspetto iniziale della fotografia puoi applicare poi le tue LUT velocemente se tu hai magari due o tre angoli nel tuo studio che usi più di tutti ti puoi fare tre LUT per i tre angoli principali e da quel punto sei molto più veloce senti l'ho detto all'inizio del video ma in realtà non era uno scherzo io ti ho conosciuto veramente su YouTube con i tuoi famosi corsi di fotografia dai quali ho veramente imparato tantissimo adesso ho visto che stai facendo una sorta di remake di riproduzione di questi corsi sì sì ho cominciato due o tre anni fa a rifare una riedizione ricominciando dai primissimi video perché i primi video li ho fatti dieci anni fa dove io ero molto più inesperto sia come fotografo che anche come presentatore insomma parlavo in una maniera un po' più incerta e anche i video addirittura non erano neanche in HD erano a 640x480 i primissimi video quindi ho deciso un paio di anni fa di rifare il corso anche per aggiornare soprattutto le puntate più critiche che sono quelle più iniziali dove parlo dei diversi tipi di macchina fotografica in dieci anni chiaramente il mercato è cambiato molto e quindi ho ricominciato questa riedizione e proprio ultimamente ho fatto la nona puntata che parla della profondità di campo e pochi una settimana dopo ho fatto una puntata invece del corso avanzato quindi adesso sto cercando di portare avanti sia la riedizione e sia il corso avanzato per chi effettivamente già queste cose le ha imparate si che poi effettivamente è proprio così cioè tratti anche degli argomenti molto spinti anche dal punto di vista tecnico se vogliamo ad esempio ho apprezzato tantissimo io quella del focus break thing si dice così se non sbaglio Carlo io ti ringrazio tantissimo veramente è stata una piacevolissima chiacchierata ho sicuramente imparato qualcosina in più rimango dell'idea di voler comunque editare un po' le fotografie anche se ci voglio provare a fare qualche qualche preset ma assolutamente non comprerò latte preset venduti da qualcun altro questo assolutamente no grazie ancora sono felicissimo che tu sia stato ospite in questa puntata grazie grazie a te Giuseppe sono contentissima di questa chiacchierata è stata molto divertente io ricordo chiaramente a tutti i nostri amici che i link al canale di Carlo ai suoi social ve li lascio ovviamente linkati giù in descrizione iscrivetevi andatevi a guardare i corsi di fotografia perché sono veramente fatti benissimo vi ringrazio ancora per aver guardato e vi do appuntamento alla prossima puntata ciao ciao